Da Campobasso una storia delicata che ha a che fare con un'ordinanza del sindaco e delle fave. Cosa c'entrano l'aspro legume e un provvedimento sindacale con la delicatezza, direte? In realtà, come altro definire la decisione del massimo inquilino di Palazzo San Giorgio di vietare la coltivazione di fave nei terreni in prossimità dell'abitazione del piccolo Marco, nome di fantasia. Dagli orti fino a 300 metri di distanza, da una certa casa di via Pirandello, ma analogo di vieto esteso all'area adiacente alla scuola Petrone, frequentata dal bambino, scompaiano la pianta in questione e i suoi derivati, l'ordine di Paola Felice. Questo perché Marco è affetto da favismo, una malattia genetica. Chi ne soffre, solo in Italia sono 400.000, non può mangiare questo legume, nei casi più gravi, il rischio è quello di anemia acuta, ovvero di distruzione improvvisa dei globuli rossi. Per evitare che Marco, troppo piccolo per avere contezza del rischio, possa, vedendole, avere il desiderio impossibile da pagare di mangiarne, la drastica e, come dicevamo a nostro avviso, delicata decisione presa dal primo cittadino, ci piace pensare con l'assenso di tutti i cittadini, anche degli ortolani destinatari in prima persona della restrizione. Un'altra cosa che ci fa piacere immaginare, anzi sperare, questa anche più importante, è che a Marco non piacciano le fave.